Eccoci qui ragazzi, buongiorno, buongiorno, buon buon Pessimo inizio di settimana per noi E sarà anche due settimane di merda da passare Visto che il campionato non c'è fermo per i nazionali Quindi dovremmo portarci lo strascico di sto derby Per due settimane ragazzi, per due settimane La cosa che mi dà più fastidio è aver perso due derby per cazzate nostre Non è accettabile sta cosa Vedi i nazionali che si sentono fenomeni secondi in classifica O qua squadra di scappati da casa ragazzi E' veramente una cosa che mi dà enormemente fastidio Enormemente fastidio Cioè noi abbiamo regalato sei punti Abbiamo regalato sei punti Marco Dici Però Nonostante tutto ragazzi Dobbiamo stringere i denti Fa passare sto periodo di merda E ripartire perché il campionato è ancora lungo Fin dei conti stiamo a un punto dal Milan a tre dall'Inter Che sono in questo momento gli obiettivi della Roma Per conquistare sto quarto posto C'è un Europa League da giocare Possiamo solo sperare in tempi migliori Perché è peggio di così ragazzi Non possiamo fare Per cui Però tocca fare ste pagelle perché E' d'obbligo Ragazzi i pagelle si fanno sia se va bene se va male Allora Rui Patricio voto sei Beh sul gol ragazzi non ha potuto far nulla Talmente preciso il tiro di Zaccagni che era imparabile Poi è stata normale amministrazione Tranne quel tiro Da fuori aria di Luiz Alberto che l'ha parato Ma insomma Un Rui Patricio veramente incolpevole ieri I Banes ragazzi E' nulla che vi dico quanto gli do Io do due Perché Negli ultimi tre anni Sono tre derby che ci fa perde Anche ieri io non riesco a capire Io l'avevo visto già dall'inizio di partita Insomma che era abbastanza nervoso Abbastanza Ansioso con la palla tra i piedi E' detto questo Infatti quando ho visto che si è fatta munita dopo nove minuti Ero stra 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 sicuro Che non l'avrebbe finita la partita Certo non pensavo al 32esimo del primo tempo Magari nel secondo tempo Ma Facco i due falli stupidi Nella metà campo avversaria Poi manco una nostra A 70 metri dalla porta E' qualcosa che è inaccettabile Cioè sul giocatore non gli fate giocare più un derby Perché non è in grado Punto Non è in grado A Smalling da Mosei Perché Comunque è l'unico che ci ha messo una pezza Ieri dappertutto E E' l'unico ragazzi che se va via Roma in difesa Veramente Non lo so come andremo a finire Mancini voto 5 Perché da quale parte Zaccagni ha fatto una testa come un pallone E Poi è sempre il solito Quatto che protesta Si attacca con tutti Non lo so che deve fare Mancini Quattro di Borgata Non ha capito che è un atteggiamento sbagliato quello Però continua Insiste a far A far bullo Io non lo so che A che può portare Questo atteggiamento Pure questo detesta Non è che sta tanto bene Spinazzola Spinazzola voto 6 Ragazzi Spinazzola ha fatto quello che ha potuto ieri Ha cercato di spigna Finché siamo rimasti in 11 E dopo ha dovuto fare soltanto Compi di decopertura Ma Raga Era chiaro che non poteva fare altro Zaleschi voto 5 Perché comunque Dalla stessa parte dei Mancini Poi il gol viene da un rimpallo suo Che poteva fare meglio Che dobbiamo fare ragazzi Ieri La giornata è stata pessima E anche lui Se prende l'insufficienza Cristante Diamo 6 ragazzi Perché in mezzo al campo Ha fatto quello che poteva fare Ha praticato nel buio E' chiaro che anche lui Ieri ha giocato sotto i suoi standard Però Cioè Che gli dobbiamo dire a Cristante Che l'ultima partita è stata sempre migliore Vinaldo Mi voto 5 ragazzi Perché ragazzi Vinaldo Non è in condizione Sia a livello fisico Che a livello psicologico Perché E' ancora un giocatore Che deve fare tanta strada Per recuperare dall'infortunio Ha giocato Perché Matic Purtroppo era infortunato Quella era stata D'assenza pesante per noi Infatti Quando è entrato lui Le cose sono un po' migliorate Il centrocampo A Matic Gli agliamo 6 Perché comunque Matic E' Matic Senza di lui Il centrocampo da Roma Sta veramente a tocchi Pellegrini Ragazzi Pellegrini Io Continuo a non capire Perché gioca Pellegrini Allora Io ve lo domando A voi Tanto il voto è 5 Spiegatemi L'utilità Che c'ha Pellegrini Allora Non sa tirare in porta Non sa lanciare i compagni Non sa fare un passaggio filtrante Non sa fare un dribbling Non sa vincere un contrasto Sta sempre per terra Lo vedi Pagare per campo Perde palla E non rincorre l'avversario Gli è capitata una palla Porco tu Al limite dell'aria Ha sparato sulla madonnina Cioè Un giocatore Inutile Inutile Che non dà Niente Cioè noi Con Pellegrini In campo L'ultimo mese Abbiamo giocato Tutte le partite In 10 E ancora Mi devo vedere Murigno Che leva Di Bala E lascia in campo Pellegrini E questa è una cosa Che non è accettabile Nessun allenatore Con un bricio Di cervello In testa Farebbe Stato sostituzione Di Bala Pure lui Ragazzi 5 e mezzo Anche lui Sta In difficoltà A ridare le condizioni C'è prova A fare qualcosa Ma predica Nel buio Secondo me Non è anche Aiutato dai compagni Secondo me Gioca troppo indietro Dovebbe giocare Più avanti Ragazzi Se non Gioca di Bala Non ci segna Nessuno Parliamo Se gli altri Perché se aspettiamo I gol Degli altri Stiamo freschi Belotti Voto 6 Ragazzi A Belotti Gli vedo 6 Perché ha lottato Come il leone Come al solito Come sempre Cioè Se tutti si impegnassero Come Belotti La Roma Ci avrebbe sicuramente Qualche punto In più Però ha lottato Coro Magnolico Casale Ha preso punizioni Ha fatto Ammonia Avversari Ha fatto Quello che poteva In un contesto Così difficile Cioè Parliamo Se chiaro Poi entra Sharawi Ragazzi Sharawi Che gli possiamo Dì 5 e mezzo Cioè Entri in un contesto Dove giochi 11 contro 10 Le possibilità Di offende Sono poche Che deve fare Abram 5 Perché Abram È entrato Come al solito Non ha strusciato Una palla Non riesce Sto giocatore Ragazzi Veramente La differenza L'anno scorso Abbissale Io spero Che a giugno Se ne vada Perché Sto giocatore È inutile Per noi Cioè Che cosa Ci dobbiamo fare Con un giocatore Come Come Abram Cioè Tecnicamente Non si discute Ma mentalmente È un giocatore Che non Cioè È completamente Assente Dalla manovra Dal gioco Da tutto Da tutto A Solbacche Senza voto È entrato L'ultimi minuti Llorente È entrato E poi è uscito Anche lui Non può essere valutato A Mourinho Do 4 Perché Ha impostato Una partita Assurda Facendo Catenaccio E cercando Poi De partire In contropiede Con dei lanci Lunghi Su Belotti Che non L'ha mai presa Partita Che la Roma Doveva iniziare Sbranando Sbranando l'avversario Perché dovevi Vince Sto derby Senza Né come Né perché E invece Se sei messo lì A far Catenaccio Aspetta L'avversario A giocare Per pareggio Facendo La stessa partita Che ha fatto Contra È qualcosa Che è inconcepibile Che tu non puoi Togli Il giocatore Più forte Che c'hai In squadra Per far Continua a giocare Quel cadavere De pellegrini C'è poco Da fare Ragazzi Poco Da fare E niente Ragazzi Cercherò Di fare Di contenuti Di queste due settimane Che il campionato Infermo Dobbiamo riprenderci Dobbiamo guardare avanti Dobbiamo buttare giusto Sto boccone amaro C'è poco da fare E dobbiamo stare comunque Vicino alla squadra Perché Il tifoso da Roma È abituato alla sofferenza Alle delusioni Ma è sempre innamorato Dalla squadra sua E di certo Non l'abbandona C'è ancora Tanto da fare Tanto da giocare E tanto da ti fare Ragazzi Quindi Sempre sempre Forza Roma E a presto